che nome date al vostro bambino per leonardo che cosa chiedete alla chiesa di dio cari genitori chiedendo il papesimo per vostro figlio leonardo voi vi impegnate a educarlo nella fede perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare dio e il prossimo come cristo ci ha insegnato leonardo io ti batteggio nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo accogliamo il piccolo leonardo nella nostra comunità grazie 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 grazie